I ragazzi sono stati molto bravi e soprattutto a cercare con assiduità quando era possibile proprio quelle cose che stiamo allenando con maggiore intensità e con maggiore impegno quindi voglio far loro i complimenti perché alcune cose non sono così semplici da fare e loro sono stati bravi a cercare di farle in ogni momento possibile. Abbiamo visto molto bene perché sono dei ragazzi di qualità, alla fine due di loro hanno giocato tutta la partita hanno giocato 1-3-7, 1-4-7, hanno giocato molto bene, nel quarto set ha giocato molto bene Giraudo con un ragazzino del Vivaio del 2007 che sta facendo molto bene in queste settimane con noi che ha già un livello di gioco abbastanza, non abbastanza, molto alto per l'età ma anche a livello assoluto questo credo che sia anche molto negativo del lavoro molto positivo che stanno facendo nel settore giovanile onestamente sono molto contento, mi è spiaciuto un po' perdere il quarto set perché siamo stati lì punto a punto fino alla fine facendo delle cose anche egregie, per onestamente ho visto molte cose buone, qualche ingenuità però molte cose buone, questo qua è sicuramente una cosa molto positiva che ci dobbiamo portare a casa. Grazie 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 Grazie